fagioli del vecchio west adesso siamo fagioli del vecchio west sto rosolando uno spicchio d'aglio con poco olio 50 secondi e poi aggiungerò sedano e carota dopo 50 secondi ho aggiunto sedano e carote un minuto due minuti fiamma alta fornello medio ho aggiunto poi la passata e i fagioli sono quelli scatola ma volendo mettendo più acqua si possono mettere anche i fagioli quelli ammollati per una notte adesso lascio a fiamma alta un minuto e poi a fiamma bassissima per una 15 20 minuti trascorsi 20 minuti vado a controllare perfetti buonissimi all'aspetto meravigliosi fagioli del vecchio west